Oggi 9 maggio 2017 siamo a Norcia, nonostante la giornata nuvolosa siamo qui ad inaugurare un'altra nuova scuola tutta colorata che ci riempie di gioia e allegria. Oggi consegniamo ai bambini e alla comunità di Norcia la scuola materna, segno di nascita e speranza. Noi crediamo che la ricostruzione passi attraverso una buona educazione e un'infanzia felice. È stato un bellissimo gesto di solidarietà e di generosità, grande cuore da parte dei nostri clienti. Circa 60.000 si sono mossi e hanno voluto dire ci siamo anche noi ad aiutare le popolazioni di questo territorio. E insieme alla gente di Costa e alla nostra azienda siamo stati capaci di costruire questa bellissima opera per un futuro pieno di speranza. Francesca Rava era una nostra collega e noi vogliamo con il supporto a Fondazione Rava in tutti questi progetti in Italia e all'estero ricordarla sempre. Vedere dal vivo la scuola ci ha portato subito un'emozione dentro al nostro cuore perché possiamo vedere concretamente quello che è stato lo sforzo, il supporto che anche la nostra azienda ha deciso di dare a distanza di così pochi mesi. Un progetto importante, già concreto e già vivo. E innanzitutto un grande ringraziamento alla Fondazione Rava. Quando abbiamo trovato questa disponibilità di un soggetto pronto non solo a presentare un progetto ma a farsi carico della realizzazione di queste scuole l'abbiamo accolto veramente a braccia aperte. Questo per noi è la cosa più importante, la grande alleanza che si è creata tra tutte le istituzioni del territorio e con il privato, con il privato sociale e con la Fondazione Rava in particolare. Sono certo che tutti quanti insieme con l'aiuto di questa grande solidarietà che sta raggiungendo la nostra comunità ancora una volta ce la possiamo fare a vincere questa sfida che è la sfida più grande che il nostro territorio sta conducendo nell'ultimo secolo. Grazie a tutti, grazie ancora a tutti coloro che hanno lavorato, grazie alla Fondazione Rava. Grazie, grazie mille a Nicola Rebano, sindacchi di Norce. Stiamo arrivando Peppa, ok sei pronta? Regione Umbria è grata a Fondazione Rava per questa importante iniziativa che sta facendo sul territorio di Norce e Cascia perché le scuole sono la base per la rinascita dopo il terremoto. Oggi per noi è una giornata stupenda perché finalmente abbiamo ritrovato un po' della gioia che ci mancava da qualche tempo. È una bellissima cosa veramente anche per i bambini stessi che ora hanno anche molto più spazio che dove erano prima comunque diciamo erano un po' ristretti. È una scuola molto innovativa con colori molto belli, piena di giocattoli, diciamo un posto dove i nostri bimbi che sono il futuro di Norce possono finalmente lavorare in pace e in armonia. Ma tu mi dici se ti è piaciuta questa scuola? Eh ma mi era piaciuta. Ti è piaciuta? Abbiamo fatto tante raccolte fondi e soprattutto vedere che i fatti dopo tante energie e tanto lavoro arrivano è una soddisfazione, un'emozione grandissima. Mi fate sentire con un urlo forte, forte, forte quanto è bella la scuola? Al mio tre fate un urlo più forte che potete. Uno, due, tre. Siamo felicissimi del risultato e vi aspettiamo il 23 maggio per l'inaugurazione della scuola media a Norcia e il 6 giugno per le scuole elementari e medie a Cascia. Al prossimo episodio Al prossimo episodio